E adesso Barbara cambiamo totalmente argomento perché il nostro Raffaele Gianzante ci ha preparato un report che parla dell'export nella nostra regione. Sono le grandi multinazionali dell'automotive e della farmaceutica a trainare l'export a Brunzese. Lo dice uno studio realizzato da Aldo Ronci su dati Istat e CoWeb per conto di CNA Imprenditori Abruzzo sui risultati relativi ai primi nove mesi da gennaio a settembre del 2023. Io ci dico che i pinastri dell'export a Brunzese sono diventati due perché all'automotive si è aggiunto il farmaceutico. Infatti i mezzi di trasporto hanno contribuito all'incremento di 206 milioni. Per il 46% hanno contribuito i mezzi di trasporto, per il 39% il farmaceutico. E quindi complessivamente mezzi di trasporto e farmaceutico hanno contribuito all'85% dell'incremento dell'export. Quindi si può dire che sostanzialmente l'export è dovuto a questi due settori. E quindi giustamente oramai i biopilastri sono automotivi e farmaceutici. Tra gennaio e settembre dell'anno scorso, dice lo studio, la nostra regione ha fatto segnare un incremento di 906 milioni di euro, pari al 13,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Se allora l'insieme dell'export regionale ammontava 6.615 milioni di euro, nello stesso periodo del 2023, dello scorso anno, si è passati a 7.521 milioni di euro, dato che piazza la nostra regione al quarto posto in Italia, rispetto a una media italiana che è 14 volte inferiore a quella abruzzesi. Ma i numeri, indubbiamente positivi, dicono altro, ovvero che i pilastri di questa buona performance sono due, appunto dicevamo l'automotive e la farmaceutica, punto di forza di due province, che sono rispettivamente quella di Chieti con la Val di Sangro e quella dell'Aquila con la farmaceutica. Dei 906 milioni di incremento registrati, infatti se è vero che la fetta maggiore, vale a dire 418 milioni, pari al 46%, è dovuta ancora alla produzione dei mezzi di trasporto realizzati in Val di Sangro, è pur vero che il comparto della farmaceutica e dei medicinali arriva a una crescita di 354 milioni. Andiamo a vedere quali sono le performance delle varie province e cominciamo chiaramente da quella di Chieti, più 429 milioni di euro, l'Aquila più 249 milioni di euro. Segue il Terramano con 161 milioni in più, una dote particolare data la versatilità del territorio terramano, dove esistono prodotti tessi, abbigliamento alimentare e accessori veicoli. In coda c'è Pescara, che evidentemente non ha una vocazione all'export, soltanto più 66 milioni di euro. Quindi due settori sono trainanti per l'export? Sì. Sono? Due settori trainanti per l'export, dai dati che abbiamo rilevato attraverso lo studio di Longe negli ultimi primi nove mesi del 2023, sono naturalmente l'automotive e il settore farmaceutico, quello che emerge di più. Tutte e due insieme, oltre a dare un dato positivo più 13,5%, in realtà insieme rappresentano l'85% dell'export abruzzese. Sono dati positivi, non sono ancora gli stessi dati del 2019, ma ci stiamo avvicinando, quindi i volumi sono molto importanti. La riflessione di fondo da fare in questa direzione è che per fortuna ci sono questi due settori trainanti e faccio notare che sono proprio i settori dove c'è più ricerca, più miglioramento delle competenze, quindi c'è un'attenzione particolare alle filiere fatte attraverso la conoscenza. Ma allo stesso tempo l'auspicio è che anche altri settori vadano in questa direzione. Che significa che vadano in questa direzione? Che in qualche modo abbiano l'ambizione di affrontare i mercati internazionali. Mi riferisco soprattutto ai settori dell'agri-food, del beverage e ai settori del made in Italy, quindi testi di abbinamento e calzaturiero che hanno una vocazione innata all'export. Noi abbiamo tra l'altro dietro stimolo di alcuni partner internazionali che stanno a Dubai e in Malaysia perché sono considerati dei mercati in crescita, normalmente in crescita. Gli stessi intermediari che provengono da questo mercato ci stanno contattando e noi abbiamo costruito con loro una tavola rotonda che farò nei prossimi giorni che cercherà di intercettare attraverso un partenariato allargato proprio un'offerta interessante per questi mercati. La vera scommessa è trovare anche soluzioni finanziarie ma anche modelli organizzativi che siano in grado di avere una massa critica e un'offerta adeguata per affrontare poi una scommessa così importante. Non è facile, dovremmo lavorare affinché l'Abruzzo si attrezzi a favorire nel miglior modo possibile, una cosa non semplice naturalmente, a migliorare proprio queste potenzialità. Qual è il suo giudizio su questi dati? Questi dati sono dati positivi che noi accogliamo favorevolmente e quindi ci vanno benissimo. Il problema è che noi vogliamo capire come le nostre piccole imprese si possono agganciare questo importante momento di esportazione in Abruzzo perché vediamo che sono soltanto le imprese più strutturate a livello sia farmaceutico che dell'automotive e forse le nostre imprese fanno molto più fatica a agganciarsi a questo momento di export. Quali sono le indicazioni che si potrebbero fornire, dare alle piccole imprese per agganciarsi a questo treno? Sicuramente la capacità di mettersi insieme, sicuramente la capacità di trovare nuovi investimenti, usare meglio la tecnologia, però sicuramente in questi casi l'accesso al credito è molto importante e quindi bisognerebbe trovare delle soluzioni per dare maggiore possibilità alle piccole imprese di accedere al credito per avviare questi rapporti di esportazione, magari con aiuti delle camere di commercio, non so, che qualcosa già si fa, però forse potrebbe fare un po' di più. Dalla CNA che cosa può svilupparsi? Noi come CNA cerchiamo di aiutare le imprese, come stavo dicendo, sia cercando di metterle insieme e quindi di creare delle reti di imprese per farle sviluppare, cerchiamo anche di accompagnarle nello sviluppo di progetti e quindi di formazione e di sviluppare nuove competenze in modo che quando si approcciano questi nuovi mercati trovano meno difficoltà. È vero questo aumento di occupazione in questi ultimi mesi dell'anno scorso? Sì, c'è un aumento di occupazione, però c'è anche tanta carenza di manodopera qualificata che noi piccoli imprenditori facciamo fatica a trovare e quindi la formazione diventa fondamentale e si attinge anche a, diciamo così, a extracomunitari che stanno diventando una risorsa. Contratti a tempo determinato o indeterminato? Allora, nelle piccole imprese sicuramente all'inizio è un contratto a tempo determinato, ma poi si favorisce quello indeterminato perché il valore di un collaboratore è prezioso e quindi per noi è un investimento, non possiamo, una volta che iniziamo un percorso o un contratto e ci teniamo a tenere le persone per tenere al nostro interno perché facciamo fatica a trovarle. La CNA rappresenta soprattutto piccole e medie imprese. In questo export, su questi dati, qual è il loro ruolo? Il nostro ruolo in questi settori sono più da subfornitori, quindi le piccole e medie imprese sono inserite in una catena di subfornitura molto importante, quindi sono fornitori privilegiati, quindi questi settori in realtà sono da traino per le piccole e medie imprese che rappresentano proprio dei fornitori di eccellenza per questi settori. L'altro lato è capire se quanto riusciamo, e questa è la vera scommessa, a far sì che anche le micro e piccole imprese con forme aggregate di partnership importante che siano consorsi, rete e quant'altro, possano attraverso una progettatura specifica, per esempio ci sono in campo anche soluzioni tipo Exportal Manager o organizzazioni pensate ad hoc per poter favorire l'export e l'internazionalizzazione, questi settori possono trovare un percorso che li porta ad affrontare meglio i mercati internazionali, non solo il mercato interno. La CNA ha un settore specializzato su internazionalizzazione, CNA nazionale per lo più, ma in CNA Abruzzo abbiamo anche noi un referente, e nei prossimi giorni proveremo ad aprire questo tipo di ragionamento. La crescita di un settore vuol dire anche magari sviluppo dell'azienda, per sviluppare un'azienda ci vuole il credito e quello è sempre un punto dolente. C'è qualche passaggio importante di questo periodo su questo tema? Ad oggi tranne le misure conosciute di SACER per l'internazionalizzazione, non ci sono misure specifiche mirate allo sviluppo di questo progetto, se non il credito ordinario, l'accesso al credito ordinario o l'utilizzo, dove noi siamo i principali attori, l'utilizzo dei consorsi fidi che possono aiutare ad abbattere il rischio derivante da progetti di internazionalizzazione, perché andare nei mercati estri prevede proprio un progetto di marketing e organizzativo specifico, non è assolutamente una banalità. Certo, non abbiamo servizi adeguati che siano in grado di valutare, fare delle schede paese e accompagnare in maniera adeguata anche l'intenzione, la proposta, l'idea di poter esplorare i mercati esteri. Quindi un piccolo imprenditore che vuole provare a piazzare i propri prodotti all'estero, oggi fa fatica a trovare dei canali sostenibili naturalmente e di aggregazione che possa accompagnarli ad affrontare questo tipo di sfida. Ci sono dati nazionali sull'aumento di occupazione a tempo determinato e indeterminato, le risulta anche in Abruzzo qualcosa di simile? Non ho sotto mano un dato aggiornato, però sicuramente la tendenza è quella, ma il dato che emerge maggiormente è che aumenta il mismatch, cioè il mismatch è la distanza tra la competenza cercata e la competenza offerta, tra domande e offerte di lavoro. Questo mismatch si sta amplificando, nonostante le tecnologie dovrebbero fisiologicamente avvicinare le informazioni. Un po' perché alcuni settori che tra i nanti, mi riferisco per esempio all'edilizia, sono settori però poco attenzionati da chi intende lavorare. Ma ci sta polarizzando il mercato del lavoro, da un lato professionalità medio-basta e dall'altro invece professionalità medio-alte, quindi o si è in cerca di tecnici specialistici che abbiano un know-how importante, che siano in grado di supportare per esempio le filiere che abbiamo detto dell'export, o settori che richiedono comunque un impegno diverso, un approccio al lavoro diverso, mi riferisco al settore dell'edilizia, dove si fa fatica a trovare proprio la mano d'opera, anche se specializzata, ma si fa fatica a trovare la mano d'opera. In mezzo c'è un'area grigia che è rappresentata un po' dai servizi, digitalizzazione, servizi avanzati. C'è un tema emergente che è il green, ma tutti questi settori richiedono comunque delle competenze specifiche, ma anche delle competenze trasversali, visto che guardiamo un mondo ormai locale e locale, direi pure, perché c'è anche una filiera che sta provando a ritornare in Italia, quindi sono fenomeni molto attenzionati. Guardiamo il fenomeno di Cucinelli che si avvicina, che torna da noi, quindi ci sono dei fenomeni che bisogna leggere bene, quindi che vedono anche un ritorno all'economia locale, ma il fattore competitivo sono le competenze.